Libertà, fedeltà e distacco. 13 settembre 1977. Figli miei, sia pace a voi e grazia e tanta buona volontà, perché possiate camminare speditamente nella via del Signore. Io sono mamma e maestra vostra, e non mi mancano i mezzi per potervi aiutare, ma ho bisogno della vostra collaborazione, della vostra corrispondenza alla Divina Chiamata. Figli, oggi vi voglio indicare, con tre parole, il modo con cui dovete seguire il mio figlio, per poterlo imitare e per poter raggiungere la sua statura spirituale. spirituale, dovete essere liberi, fedeli e distaccati. La libertà che io vi invito a praticare, è una virtù che vi dà gioia nel servizio di Dio, poiché, ogni azione che voi compite, diventa per voi una scelta che vi permette di onorare Dio in ogni momento. È la libertà che dà valore alla vita del cristiano, poiché, se fosse costretto ad agire in un determinato modo, qual merito ne avrebbe? La libertà è il contrario della schiavitù. Chi è schiavo, è come legato ad una catena, e non può disporre della sua volontà. Chi è libero, sente il bisogno delle altezze e si lancia alla conquista del bene. Il servizio reso da chi è libero, non pesa ed è gioioso, anche se non si può escludere la fatica. Voi dovete amare la libertà dei figli di Dio, che vi fa accettare il gioco suave di Cristo e il peso della croce. In tal modo esso diventa leggero. Dovete essere fedeli. La fedeltà è la virtù di coloro che vogliono essere dei veri galantuomini. La fedeltà nel matrimonio è un grave dovere. La fedeltà a Dio comporta il fuggire il peccato. Chi è fedele, rimane nella legge. Infedeli sono coloro che non conoscono la legge e non conoscono la fede, ma i veri infedeli sono coloro che, conoscendo la legge e la fede, non lo osservano. La fedeltà che io esigo da voi, comprende anche quella continuità nelle pratiche religiose, che vi assicurano l'ossigeno quotidiano che vi dà forza nell'adempimento dei vostri doveri. I cristiani, cioè i seguaci di Gesù, si chiamano anche i fedeli. Purtroppo, però, sono molti coloro che cadono in contraddizione con questa parola. Essere i fedeli seguaci del Maestro non è cosa da poco. È un grande onore che comporta grande impegno. Un impegno di coerenza tra la fede e la pratica della morale. Un impegno di combattimento con le forze avverse e col modo di pensare del mondo. Nella continua ripresa di nuove forze, che vi vengono per mezzo della preghiera, e nel continuo rinnovare i vostri propositi, dovete essere fedeli, veri fedeli, vale a dire, dovete acquistare quell'eroismo che vi renda capaci di portare la croce, di vincere le difficoltà e di mantenere la vostra fede, anche quando, il praticarla, può farvi diventare oggetto di derisione e di scherno. La terza parola è il distacco. Vi è stato detto ripetutamente che è richiesta la povertà per poter entrare nel cielo. Io però desidero invitarvi ad avere il cuore staccato da ogni cosa umana. È questo distacco che vi rende più leggeri e più simili a colui che poté dire. Gli uccelli hanno il loro nido, le volpi le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. È necessario praticare il distacco, se si vuole essere liberi, ma il più importante taglio che dovete realizzare nella vostra vita, è quello che vi fa abbandonare la vostra volontà in quella di Dio, così da non aver da scegliere che ciò che piace a Lui. Se ben riflettete, più possedete ricchezze e cose, e più il vostro cuore rimane inquieto. Più vivete semplicemente, e più la pace prende possesso di voi. I distacchi volontari sono sempre i più validi, perché comportano la generosità del sacrificio. Quando poi gli uomini non capiscono questo dovere di lasciare, di donare, di privarsi per amore di Dio almeno di ciò che è superfluo, interviene il Signore che opera dei veri taglini netti. Io vi invito ad essere generosi, e a voler dar prova di amore di Dio e del prossimo, distaccandovi da tutto ciò che potrebbe impedire il vostro più stretto rapporto con Dio. Figli, non dimenticate il trinomio libertà, fedeltà e distacco, in cui potete riassumere tutta la vita.